Noi stiamo ascoltando il mondo dell'imprenditoria diffusa per capire quali sono le figure verso le quali dobbiamo portare avanti azioni di formazione professionale per poter poi inserire persone nel mondo del lavoro. Un momento molto approfondito in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane c'è stato per quel che riguarda il settore moda, quindi tutta la calzatura, l'abbigliamento. Su questo c'è stato un lavoro portato avanti dalla seconda commissione consigliare della regione Marchi che ha incontrato più volte una serie di operatori, portatori di interesse, imprenditori, quindi sindacalisti eccetera. Da qui è nata una visione precisa di quelle che sono le esigenze di quel settore e su questo noi stiamo mettendo in campo una serie di bandi aperti, mirati proprio a quel settore, usciranno nei prossimissimi giorni. Proprio per quelle figure che sono state suggerite dai portatori di interesse, dagli imprenditori stessi del territorio per quel che riguarda il settore della moda. Su questo abbiamo definito somme per 920 mila euro e una serie di corsi di formazione che partiranno già nei prossimi giorni. Il fatto che questi corsi siano i cosiddetti corsi di formazione garantita è perché le imprese, sono le imprese stesse che ci propongono i nomi di queste persone che noi poi inseriamo attraverso degli enti formatori accreditati dalla regione Marche e l'occupazione deve essere garantita almeno al 50%. Quindi una persona su due di quelle che entreranno in formazione con questa metodologia deve essere poi assunta. Ma questa però è una base minima che noi poniamo come regione. Io sono molto fiducioso che la formazione alla fine, l'assunzione sarà quasi completa per tutti i soggetti che noi intendiamo inserire. Grazie.